video dedicato ad Alex Kidd in Miracle World 2 un fan game per PC, per Windows quindi questa non è la hack di Alex Kidd in Miracle World per Master System ma è un gioco per computer il video non è un long play ma è la registrazione della mia primissima vera partita vedete che c'è un altro salvataggio ma avevo soltanto provato per vedere se funzionava il gioco devo dire che il titolo è molto rispettoso del gioco originale ed è per questo che ha attirato la mia attenzione ed è anche per questo che ho voluto proporvelo si gioca più o meno come un normale Alex Kidd in Miracle World il level design è tutto diverso e ci sono delle migliorie grafiche quei là le colonne sonore mi sono sembrate identiche purtroppo ci sono alcune differenze secondo me peggiorative Alex Kidd si muove troppo velocemente e ogni tanto si può incastrare addosso a qualche scatola che contiene power up il fantasmino non segue la regola delle due scatole bonus cioè su Master System quando compare il fantasmino può essere fatto sparire distruggendo due scatole bonus qua non succede e la gestione del salto è diversa appena si lascia il tasto direzionale Alex Kidd si blocca immediatamente ed è una cosa che mi ha dato parecchio fastidio all'inizio ci si deve abituare non è una cosa gravissima però chi come me è abituato con il classico Alex Kidd può fare fatica all'inizio ci sono alcune novità per esempio c'è un bracciale nuovo che permette di lanciare delle sfere infuocate ci sono delle piattaforme mobili ci sono delle molle che ci fanno saltare più in alto il motoscafo non si distrugge quando tocca terra insomma ci sono sicuramente delle buone idee qua facevo fatica col controllo del salto dopo piano piano ho quasi imparato poi ho perso la partita comunque è un titolo abbastanza rispettoso del vero Alex Kidd ha delle novità interessanti purtroppo ci sono anche dei difetti comunque il titolo si può scaricare al link che inserisco in descrizione grazie per la visione grazie per la visione grazie per la visione grazie per la visione Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!